E' visitabile fino al 29 maggio a Racconigi, presso la Biblioteca Civica, la mostra Piazze del Piemonte, architettura urbanistica e eventi quotidianità, promossa dal Consiglio regionale. Dal 9 al 24 maggio, nella sala del Consiglio Comunale di Centallo, è esposta un fiume di ricordi, mostra di 32 pannelli con le istantanee di 10 fotografi che documentano l'alluvione del 1994 e una cartografia dell'evento curata da Arpa Piemonte.